Ciao a tutti, Dante Prima Cinema, vediamo il trailer del film I Am Number 4, a dopo per le news di oggi. Number 1, was killed in Malaysia. Number 2, was murdered in England. Number 3, was hunted down in Kenya. Number 3, before they come for the others, they'll come for me. I Am Number 4. Frapples brother are crime. Number 3, was killed in Kenya. Esce in America a febbraio del 2011 questo action movie diretto da DJ Caruso, già regista di Eagle Eye e Disturbia. Il giovane affascinante Alex Pettifer interpreta John Smith, l'ultimo di quattro supereroi rimasti sulla terra. Ma per riuscire a sopravvivere agli attacchi dei nemici inviati per distruggerlo, John è costretto a cambiare spesso identità, città e amici, fino a quando non giungerà in una piccola città dell'Ohio. Rivelazione shock di Carrie Fisher, attrice americana celebra negli anni 80 per aver interpretato la principessa Laila nella saga di Guerra Stellari. La 53enne ha ammesso di aver fatto uso di diverse droghe durante tutta la sua carriera e di aver avuto varie dipendenze che l'hanno portata anche in ospedale. Inoltre ha rivelato di aver sniffato cocaina sul set di Star Wars l'Impero colpisce ancora. E per oggi è tutto, arrivederci da Anteprima Cinema.